salve a tutti benvenuti a un nuovo episodio di letture arcane oggi io e poker vorremmo proporvi la lettura dell'incipit di un romanzo di morgan tliwilin il leone di irlanda questa è la storia di brian boru il primo ardry di irlanda colui che agli albori dell'anno 1000 riuscì a cacciare i vichinghi dall'isola e a unire sotto la sua spada l'intera nazione compiendo un'impresa così mirabile e audace da rimanere ancora oggi impressa nella mente nel cuore degli irlandesi ed è stato proprio questo ricordo indelebile tramandato da generazioni di bardi e poeti che ha affascinato morgan tliwilin convincendola a scrivere il romanzo di brian boru grazie alla sua narrazione calda e coinvolgente che incanta nel districarsi tra verità e leggenda prendono infatti vita il mito di un guerriero formidabile e la sua determinazione nella conquista della libertà una determinazione che nasce nell'infanzia segnata dal massacro della sua famiglia per mano dei vichinghi si rinsalda nella giudinezza sacrificata in clandestinità per vendicare la morte dei genitori e per riscattare una nazione divisa e umiliata e trionfa nella maturità quando brian boru diventa il capo di un popolo orgoglioso che per la prima volta prende coscienza della propria forza e si lascia guidare dal suo grande re verso la vittoria ma ciò che rende davvero unico il leone d'irlanda è senza dubbio la maestria di morgan tliwilin nel consegnarci il ritratto di un eroe umanissimo facendo emergere in tutta la loro forza le sue grandi passioni condivise con donne eccezionali entrate di diritto nella leggenda è rimasta al suo fianco anche nell'ora della tragica morte sul campo di battaglia parte prima capitolo primo il piccolo brian si sedette sulla sommità della collina sassosa con le braccia strette intorno ai ginocchi sbucciati rovesciò il capo all'indietro e fissò l'immensa volta del cielo provando un profondo e rassicurante senso di solitudine per l'ultimo nato di una famiglia numerosa ed in perenne agitazione la solitudine era una rara conquista sembrava che brian si trovasse sempre tra i piedi di qualcuno si era arrampicato sulla collina perché al momento era deserta ed egli poteva occuparla senza timore di incidenti con voce incerta si rivolse verso il cielo grigio che andava incupendosi sono il re disse assaporando le parole come risposta o di solo il silenzio allora si rizzò in piedi e ripete con più forza sono il re dei re e spalancò le braccia per racchiudere nel suo gesto la maggior parte possibile del suo regno un vento incessante spazzava la campagna verdissima veniva direttamente dal mare spingendo dinanzi a sé a mazzi di nuvole gravide di pioggia che si sarebbero alla fine liberate sulle colline boscose sulle montagne di nudo granito ancora prima che la pioggia iniziasse a cadere l'aria era già densa pesante e ricca di umidità come l'alito di un neonato le felci risplendevano negli anfratti come fiamme di smeraldo i fianchi tondeggianti e levigati delle montagne lanciavano improvvisi bagliori nell'aria si respirava un profumo di vita di morte e di crescita rigogliosa sotto i cumuli di pietra e i dolmen eretti per ricordare i defunti dentro la cinta difensiva in ruvina nel cuore accogliente della terra ricoperta di muschio i fantasmi si agitarono nelle tombe giganti eroi e codardi avevano dormito per millenni al riparo sotto l'antica coltre ed ora le loro ossa polverose presagivano l'arrivo di un'altra primavera il richiamo di brigid che lo cercava lo scosse dalle sue fantasticherie era venuta a cercarlo anche i più giovani hanno dei compiti da svolgere ed a brian era stato affidato quello di guardiano delle ocche lungo le riverbose dello shannon sennedy suo padre non aveva figlie in teneretà che potessero occuparsene ah eccoti qua gridò brigid vedendolo spuntare dietro la cima della collina non ti fai mai trovare quando qualcuno ti cerca vero le ocche di tua madre potrebbero ormai essere nella pancia di un lupo se dipendesse da te allungò una mano per afferrargli la spalla e dargli uno scrollone ma brian scivolò di lato non aveva nessuna intenzione di sottomettersi a quella ragazza che non era altri che la figlia del mandriano di suo padre le ocche stanno bene le disse in tono rassicurante cercando di nascondere un tremito nella propria voce in modo che fosse più simile a quella di un re sono in grado di proteggerle posso proteggere tutto questo aggiunse facendo un ampio gesto con il braccio per indicare il suo regno brigid però era una ragazza abituata a lavorare seriamente aveva compiti ben precisi e non le piaceva affatto dover trascurare per andare continuamente in cerca di un bambino che non perdeva l'occasione per cacciarsi chissà dove inoltre non era minimamente interessata quel mondo fantastico in cui egli viveva rimase ritta davanti a lui con le mani sui fianchi mentre ampie ciocche di capelli castani le sferzavano il viso agitate dal vento che andava rinforzandosi bene sono passati i nostri sei minuti canini io e poker vi salutiamo e vi auguriamo uno splendido proseguimento di giornata